a largo di tutti la rapsodia coglie ottima partenza e va facile al comando nei confronti di Pat Wai e Wais che parcheggia poi il rino va più ok a precedere via via tutte le altre e ora lunga fila indiana si va al completamento del lancio nell'ordine del quindici e tre si affaccia Pat Wai e Wais secondo me manda via Minopoli e infatti sabato di Vincenzo e la targata Wais proseguono nel loro sforzo quattrocento in trenta Pat Wai Wais va al comando e le cavalle ora affrontano la seconda curva da un e quattordici cinquecento iniziali in terza posizione arriva più ok 44 e 7 è finita a tabellone numero uno prestige tira subito i remi in barca la leader e siamo al completamento della piegata e si affaccia la Priscilla un e uno il mezzo miglio e la zac 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 Priscilla prende la via del largo pedinata da Rania Robb lontano anche l'otto di Palmeragim cavalli al completamento e chiusura del primo chilometro sedici sul mio vi ricordo da start a start e così Pat Wai Rapsodia Priscilla Riena va più ok mezzo miglio alla conclusione una frazione in quindice e sei e di fronte per il momento nulla muta con la Priscilla all'esterno di Rapsodia Pat Wai al comando sembra ancora controllare ma mancano seicento all'arrivo quattordici e tre di fronte la Priscilla cerca l'aggancio e la cosa avviene all'attacco della curva finale il miglio uno cinquantanove sette si è viaggiato e Priscilla impegna la leader poi Rien va più ok di dentro la Rapsodia retta d'arrivo con la Priscilla che persevera passa a largo Riena va più ok tenta il poker tenta il poker Tony Tony Priscilla Jack Rio Model Riena va più ok 1 e 15 signori il poker d'autore per Antonio Di Nardo una serata stellare colme di soddisfazioni decisamente Antonio Di Nardo pochi lustrini e Paillette ma molta sostanza questo è Antonio Di Nardo un driver di rara concretezza e ora va a prendersi altre prebende sette nove due grazie ancora a Emanuele Rolando grazie ai due migliacci qui da Rignano e ringraziamo anche soprattutto il Panathlon International che ci ha seguito per tutta la serata ringraziamo l'onorevole Santulli che ha dato lustro con tutti i suoi colleghi qui all'ippodromo di Agnano una serata speciale una serata sotto le stelle grazie ancora e buonasera a tutti e ora in premiazione Antonio Di Nardo grazie a tutti i suoi